Spara! Spara! No, no, no! Ma come ho fatto? Ma questo sparo io? Proiettili Findus? Ciao ragazzi, sono Eletronici, signori, sono tornati qui, carichiamolo mai sul mio canale con un nuovo video di Rainbow Six E cosa dire, come potete vedere abbiamo addosso una maglia pazzesca, sopra ci sono i vari loghi degli operatori di Rainbow, tra l'altro, guardate la manica che figa E come sempre Bomberoni, mi raccomando, spolliciate, commentate, fatemi vedere che ci siete, importantissimo Adesso qua noi abbiamo già startato, abbiamo trovato la mappa fine, oh mio dio, è che Dio ce l'avanti buona perché noi su questa mappa andiamo sempre un po' in difficoltà Tra l'altro, aspetta eh, ok, non riuscivo neanche a centrare la telecamera, guardate che figo raga il toucher con la sole nero Tanta roba, tanta roba, rai che ne hanno già seccato uno, bravissimi, devo dire che a questo anno mi sono un po' sacrificato per la squadra Perché non è che mi piace tantissimo utilizzare toucher, però qua è fondamentale Bravi, li stanno arando, io in tutto questo lo sto facendo solo da supporto morale perché non ne ho visto mezzo Dai Termet, vai là e spacca, ma ci sono le tarmi in sta mappa? Cos'è? Ma che roba? È fiero di buchi quel bagaglio qua È tutto un buco, io drono, perché secondo me qua in corridoio, eh a parte che hanno ancora ele, ok, 5 contro 2 Vai così, non ci credo, ma guarda che si è suicidato il termite Oh mamma mia che round Ah sicuramente sector, uomo fondamentale per questo round, non ho fatto niente Signori partenza col botto, bello mi è piaciuto, ho fatto un cazzo al primo round ma l'importante era vincere, tanto qua c'è un bomberone Ciao zio, io ne approfitto per mettere giù i gadget e poi troverò ad andarmelo un po' in giro Questo qua dov'è che lo sbatto? Mettiamolo qua all'ingresso, così Ci siamo, round è iniziato Mi prendo un rischio abbastanza grosso stare qua ma D'altro canto è un punto della mappa questo che va Controllato, perché se passano da sotto raga poi è finita Bravi, ne ha seccato uno Succhia, succhia anche bene, bastardo Mamma mia Mi sono cagato in mano di brutto Ah Eh me l'aspettavo eh, vedete raga Che ha provato a fare il giro largo questo Potrebbero essercene una Dove cavolo è? Lo rattacciale là in fondo che l'ho sentito A parte che li stiamo massacrando, io provo a tornarmeli in obiettivo, va Che non voglio rischiarmela Qua è tutto chiuso Ok, che ansia che ho avuto per prima Ce n'è uno qua eh Da, come ho fatto, non Spara, porca Spara, spara Madonna c'è che non ci posso credere Raga non fatemi morire Che non mi conta la morte Grandissimi, grandi Oh ma è mortale questo eh E da parte che probabilmente l'ho smirato come un porco Sicuramente Però Cristo, non riescevo a ucciderlo Via così, partenza con il botto Mi sta piacendo un sacco Più che altro Sì lo stai giocando benissimo eh Infatti ora mi devo un attimo scantare Mi devo concentrare Però mi sto divertendo troppo raga Sapete cosa vi dico? Che provo a farlo io il giro Ce n'è uno Ce n'è uno perché l'ho sentito Ho sentito Vieni qua zio Non so che ci sei O è bandito e Hela Uno dei due Dove cavolo è finito questo? Allora facciamo fuori la telecamera Ottimo Oh maranu karma Sto cagando di mano perché Eppure era qua Io lo sentivo Facciamo fuori qua Ma che giro ha fatto? Scusate No ecco Non ci credo No Guarda te raga L'avevo Oh l'avevo sentita perfettamente Sta maledetta Eh ho sbagliato io Guarda ho messo la clamor In una posizione sbagliata Eh vabbè Che vi devo di? Sto round secondo me lo perdiamo Perché Sì sì No no Lo perdiamo e basta A meno che questo qua non faccia il full team della vita Ma È molto difficile Se non sbaglio Ok Perfetto Questi manco mi fanno parlare Che ci hanno massacrato a sto giro Round nuovo Andiamo via con Lision Sto cercando anche di variare un po' con gli operatori Adesso qua noi barricchiamo Poi andiamoci direttamente fuori dalle balle Via Aspettate perché Dove? Che cavolo è la? La cule? Eccolo qua Che l'ho messo in una posizione sbagliata Lo andiamo a mettere Uno qua Un altro lo metto qui da scale E io direi di andarmene via Guardate mi prendo un rischio abbastanza grosso perché E se non ho già stato qua prima con Jäger Probabilmente se lo possono aspettare Ma io Quella zona qua Non gliela posso lasciare libera Quindi Queste bacche O bacco glaz Qua fuori Qua fuori Ce n'è uno su rampino Beh se rientra da questa porta E' proprio stupido E' bello forte 5 contro 4 Grandi raga Hanno preso un aculio in corridoio Hanno preso quello lì Quindi deduco che siano dentro quella stanza qua raga Sapete che io mi metto il Mi metto il Eccolo qua Mamma mia Che giocatore L'ho aspettato Guarda Mamma mia Questo qua mi sta chiamando Ma che cavolo è Dai là Togli quel baghek Per favore Tagli smartphone Ce n'è un altro eh Non so dove siano questi due ma Secondo me ce li ha ELA Ecco guarda come va a morire eh Guardate Tutorial pazzesco Ve l'ho detto Ve l'ho detto che andava a morire Ma perché la pusciata Che non serviva Bandita è un obiettivo Ok li hanno spottati Vado a fargli il giro E' qua raga Ok Arriva Oh mio dio Pazza bollide Che double drop shot ho fatto Eh vacca mau Certe volte mi stupisca Anch'io delle giocate Che faccio Incredibile Bombaroni qua Gliel'abbiamo spiegata bene Che giocata C'ho ancora Guarda C'ho il fiatone C'ho ancora mille Che due drop shot Che tra l'altro Nel secondo Stavo mirando il drone Io Vai 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 Entriamo Ce n'è uno Ok Occhio 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 Aspetta che ti spacco Ti spacco la parete Non ci credo Non ci credo Ma come mi ha preso No no Va bene Non ci credo Non ci credo Ero ancora fomentato io Dalla giocata Del round precedente Che stupido Raga Eh qua mi sono fatto Proprio uccidere Come un pirla Ma in tutti i sensi Ma è scappionato Sto ibane Bravissimo 3 contro 3 È fattibilissimo Oddio Termite Cosa sto facendo Dai che ve l'hanno spottato Vai che lo fai Ma come ho fatto Ma cos'è Batman Ma come ho fatto A farlo fuori Ce l'è qua vicino Zio Grande Eh ma Gli ha tolto tutta la vita Ela Gli ha tolto Perché sparano una crocchetta Queste muore Oh por Guarda Se ce la faceva Bravo lo stesso Bravo lo stesso Perché Mi è piaciuto Almeno è stato coraggioso Non poteva fare diversamente Raga Era in one shot Impossibile Ho capito Che questi Ce la fanno sudare Ben bene Pardina tostissima 3 a 2 Abbiamo il match point Anche se qua Non so cosa riusciamo a fare I droni però Vanno fatti fuori Bomberoni Mi raccomando Dove è andato È qua Oh la Pacca ma ho che ansia Sta partita Bomber davvero È incredibile Hanno fatto La porca pupazza Io volendo Potrei provare A fare quella giocata Qua ma Sono sopra Li sento È bello che li sto Li sto sentendo Tutti È lì da scale È qua da scale Qua da scale Io non so se loro sanno Che sono qua Boh andiamocene via Ha preso raga Qui È qua Arriva No 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 Come ho fatto Ma cosa sparo io Proiettili Findus No vabbè Non ho parole Non ho parole Non ci posso credere Ma vabbè Ma vabbè Ma che mi devo dire Sto prendendo Sto prendendo davvero Tantissimi operatori diversi Però adesso è il turno Di Jackal E con Sledge Madonna tetto È qua È passato Aia 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 Vai Che brutta situa Che brutta situa Aspetta che Le cose impronte Di chi sono Dov'è dov'è Ok dentro L'obiettivo È là È là È là Guardalo Vieni fuori No però Non ti devi mettere davanti Bomber C'è uno qua Sì ma questi Comunque sono Madonna mia Madonna mia Ho provato A uscire in pre fire Ma È lì in corridoio Aspetta Proviamo a far così Bucchiamo questa parete Non è affatto facile Non è affatto facile Sta partita No ma io non ci credo Assurdo Ma davvero Oh adesso ti hai rotto la minchia Affanmoc Via 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 Sto book in Dov'è l'altro Asha sta pushando di là Ce l'hai lì eh Bacche occhio Non mi andare a morire Che sei fondamentale Dai raga Possiamo farcela Manca pochissimo Ma possiamo farcela Io non vedo impronte Ci sono queste qui Mancano 15 secondi Quindi bisogna buttarsi dentro Amina In the box In the box Vai zio stun e entra Io Oddio la cam No ho beccato anche Venga l'abbiamo perso L'abbiamo perso Oddio Ho beccato anche il mio alleato Ma chi si ne squassa Dov'è l'ultimo? È là No Non è dov'è È là Ok Che ascia Che ascia Esci Maledetto schifoso Oddio raga Aiuto Oh mio dio Ma io non ci credo Ma E lì è Che ansia Che ansia Aiuto Non faccio l'esterno Sto giro Perché Vorrei vincerla Sinceramente Quindi Eh guarda che dronano No Ciappa su e porta carta Ammazza quelle cattive Così E qua raga Sta dronando Ok Ok Ho fatto fuori il drone Non so neanche io Cosa sto Cosa sto facendo Eh Ibane 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 Questa Potremmo spaccargli la carica Ma Non voglio rischiare Eh guarda che Hanno spaccato il Il pavimento Questi Stanno attaccando bene Stanno attaccando bene Molto bene Raga sono indemoniati Guarda che sta venendo su tutto Il suo file Il pavimento Hanno fatto sto Ah quel buco qua Non mi piace Mira Oddio la granata Facciano tutto Eh questi Hanno anche mia madre Cioè Stanno tirando il mondo Oh E qua eh Ce n'è uno qua dietro Granate vengono da lì Quindi per forza Adesso entrano tutti a bomba Prepariamo E qua Appena mette la testa Questo vola Eh anche a sinistra È entrato Io non capisco Fuori lui Che aveva rotto la beca È a sinistra A sinistra Ha detto l'armadietto Se fanno fuori lui L'altro è fuori Ragazzi Abbiamo vinto Abbiamo vinto Non è entrato il secondo Uno di loro non è entrato E andiamo Che difesa Ah e qua sono stati molto bravi Ma siamo stati più bravi noi Bella così bomber Che partita Guarda non abbiamo fatto tantissime uccisioni Ah no Pensavo peggio 8 uccisioni 5 assist E 3 morti Quindi come scorre Ci sta Bomberoni Cosa dire Queste partite Mi sfiniscono Tuttavia Ce la portiamo a casa Grandissima partita Mi raccomando Spolliciate Commentate E come sempre Imanete sintonizzati qui sul mio canale Per tanti altri nuovi video Dal vostro E se per tutto Salute un abbraccione Ciao campioni Ciao campioni